Le immagini che arrivano in queste ore dalla Germania legate ai danni provocati dal maltempo provocano profondo sgomento e dolore. Vorrei esprimere tutta la mia personale vicinanza ai familiari delle vittime, ai soccorritori, alle autorità tedesche e a tutto il popolo tedesco, col quale ci lega un rapporto di profonda amicizia rinsaldato anche nel corso del Covid. L'Italia non farà mancare il suo appoggio ed è vicina alla Germania anche in queste ore tragiche nella quale si cercano i dispersi. Quanto avvenuto dimostra ancora una volta quanto ci sia bisogno di interventi univoci ed internazionali che vadano nella stessa direzione per il contrasto ai cambiamenti climatici. La Commissione proprio nei giorni scorsi ha approvato il piano Fit for 55, un piano importante che va esattamente nella giusta direzione per interventi che contrastino il surriscaldamento globale. Adesso è importante che anche i singoli paesi si attivino per approvarlo al più presto. Grazie a tutti!